La volpe e l'uva. In una foresta una volpe si aggirava tranquilla. Aveva appena distetato la sua sete al ruscello e ora cercava cibo nei campi coltivati, appena fuori dal paesello vicino. Era già mattina inoltrata e la fame cominciava a farsi sentire, con sonori brontolii provenienti dal suo pancino. Improvvisamente vide una bellissima vigna piena di grappoli d'uva succosi. La volpe si avvicinò furtiva a uno dei grappoli, controllando che non ci fossero pericoli in vista. Non c'era nessuno nelle vicinanze e sembrava il momento perfetto per fare un balzo e prendersi il grappolo d'uva. La volpe prese la rincorsa e saltò, cercando di afferrare il grappolo con i denti, ma senza successo. Riprovò più volte, ma a ogni salto la lasciava sempre un po' più lontana dal suo obiettivo. Il suo pancino brontolava sempre più dalla fame, eppure la volpe non voleva ammettere la sconfitta. Guardò gli altri grappoli nella vigna sperando di trovare uno più basso da raggiungere, ma tutti sembravano alti e irraggiungibili come il primo. Alla fine, esausta e delusa, la volpe si arrese. Si convinse che quel grappolo d'uva doveva essere acerbo e non valeva la pena di provarci ancora. Con un sorriso forzato si disse, meglio così, tanto di sicuro quel grappolo era ancora acerbo, e mangiarlo mi avrebbe solo fatto venire mal di pancia. Nonostante ciò, nel profondo del suo cuore avrebbe dato qualsiasi cosa per assaporare quei grappoli dolci e succosi. Così, con la coda tra le gambe, la volpe tornò nel suo boschetto e continuò la sua ricerca di cibo, ma quella voglia di uva rimase nel suo cuore per molto tempo.